Un paio di citazioni di Schmitt della teologia politica, da cui si capisce che Benjamin ha capito tutto, perché era un confuso, ma era al tempo stesso un genio, per cui capiva al volo. E ha capito al volo che la teologia politica vuol dire che il sovrano sostiene l'ordine ed evita che precipiti nel nulla. Proprio questa immagine barocca della morte che si affaccia dietro i segni del potere, il potere che porta con sé la propria morte. E' vero, la teologia politica è proprio questo, naturalmente tradotto in senso giuridico, mentre invece Benjamin lo adopera per spiegare il significato del dramma barocco, del Trauerspiel. Poi abbiamo la utilizzazione di Sorel in comune e abbiamo il comparire nelle tesi sulla filosofia della storia del concetto di stato d'eccezione. Non è minimamente ipotizzabile che uno se lo inventi il concetto di stato d'eccezione. E' una citazione aperta da Cashman, non solo, ma non scrivi quei due frammenti semi-incomprensibili che sono il frammento teologico-politico e il capitalismo come religione, che sono teologia politica. Ecco, andiamo un po' a vedere, più da vicino. Andiamo a vedere più da vicino. L'idea è questa, Benjamin pratica una teologia politica dell'eccezione, come Schmitt, con una differenza fondamentale, che Benjamin è esterno alla coazione, alla forma. Per cui, per lui, l'elemento dell'eccezionalità non è l'elemento che sfonda la forma e al tempo stesso ti costringe a tentare di costruire la forma, senza mai riuscirci. Per lui, l'elemento dell'eccezionalità è l'elemento dell'irruzione della decisione, e fin qui è Schmitt, l'eccezionalità come irruzione della decisione. Solo che quella decisione che irrompe è una salvezza messianica, cioè che va contro tutte le configurazioni di potere della storia. Non che cerca di produrne una, ma che distrugge finalmente le configurazioni di potere della storia. C'è una bella differenza tra una teologia politica beniaminiana ebraica e una teologia politica schmittiana cattolica. In Benjamin c'è la incapacità di figura tipica dell'ebraismo, la volontà di non dare figura a Dio. In Schmitt c'è la volontà di forma. Naturalmente, come l'essere di Heidegger, è una forma su cui c'è una croce, cioè una forma barrata. Vediamo soltanto qualche brano del testo del 22 sulla critica della violenza. Benjamin scrive difficile, più difficile di Schmitt, anche perché invece che formarsi sopra la chiarezza dei controrivoluzionari o della dogmatica teologica cattolica, si è formato sui romantici tedeschi, che sono la confusione fatta persone. appunto, quelli che Schmitt ha preso come esempio del massimo di incapacità concettuale nel suo celebre libro Romanticismo politico. Allora... Diciamo così... Il punto di partenza è il diritto come violenza. Da questo punto di vista non c'è niente di strano. Il diritto è violenza. Anzi, è ragione più violenza. È ragione più violenza in atto, quando c'è una pena, ed è ragione più violenza quando esso viene posto originariamente. Tutto ciò, Benjamin lo chiama manifestazione mitica della violenza immediata. Cioè, è un modo di essere, è un modo di abitare la storia che, dice Benjamin, è profondamente identica ad ogni potere giuridico. E fa sì che ogni potere giuridico, e fa sì che noi possiamo essere certi della perniciosità della funzione storica del potere giuridico. E che, quindi, fa sì che noi ci rendiamo consapevoli della necessità di distruggerlo. E dunque, dobbiamo pensare in una violenza pura, immediata, che possa arrestare il corso della violenza mitica. La violenza mitica è la violenza della favola, mythos, cioè è la violenza che si racconta. La violenza pura, immediata, invece, è una violenza che non parla, che non si racconta, che interrompe il corso dell'altra. Se la violenza mitica pone il diritto, la violenza divina lo annienta. Se quella, la violenza mitica, pone limiti e confini, questa, la violenza divina, o detto anche violenza pura, immediata, questa distrugge senza limiti. Ecco, qui siamo davanti a un Bakunin infinitamente potenziato. Chi parla non è il proletariato, chi parla è Dio, il Dio della vendetta. La violenza mitica è violenza sanguinosa sulla nuda vita in nome della violenza. La pura violenza divina sopra è invece, mi correggo, la pura violenza divina è invece violenza sopra ogni vita in nome del vivente. La prima esige sacrifici, la seconda li accetta. Poi dice che la seconda ha pure un carattere non sanguinoso, fulmineo, purificante della esecuzione. devo dire che l'essenza di sangue non appare molto chiara, perché ha appena finito di dire che la violenza divina è violenza sopra ogni vita in nome del vivente. Certamente la violenza divina si caratterizza per l'assenza di ogni creazione del diritto. Certamente è falsa e miserabile la tesi che la semplice esistenza è superiore all'esistenza giusta, cioè che è meglio vivere che vivere nella giustizia. Esistenza. Esistenza non può voler dire soltanto nuda vita. L'uomo non coincide con la nuda vita dell'uomo. Varebbe la pena di indagare l'origine del dogma della sacertà, della sacralità della vita. Probabilmente esso è di data recente, ultima aberrazione dell'indebolita tradizione occidentale, per cui si vorrebbe cercare il sacro che la tradizione occidentale ha perduto nel cosmologicamente impenetrabile. La critica della violenza è la filosofia della sua storia. La filosofia di questa storia, in quanto solo l'idea del suo esito, apre una prospettiva critica, separante e decisiva, sui suoi dati temporali. Uno sguardo rivolto solo al più vicino può permettere tutt'al più un'altalena dialettica tra le forme della violenza che pone e della violenza che conserve il diritto. La legge di queste oscillazioni si fonda sul fatto che ogni violenza conservatrice indebolisce a lungo andare indirettamente, attraverso la repressione delle forze ostili, la violenza creatrice che è rappresentata in essa. Ciò dura fino al momento in cui nuove forze, o quelle prima oppresse, prendono il sopravvento sulla violenza che finora aveva posto il diritto, e fondono così un nuovo diritto destinato a una nuova decadenza. Questo è l'alternarsi degli ordini, delle rivoluzioni e dei nuovi ordini. E questo vuol dire non fare critica. Ecco la differenza rispetto a Schmidt. Capire la storia come successione di ordini, di violente posizioni e di violente rivoluzioni non è fare critica. Fare critica è uscire da questa logica, pensare a un'altra violenza, riconoscere questa violenza, pensare a un'altra violenza. Sono a disposizione della pura violenza divina tutte le forme eterne che il mito ha imbastardito col diritto. La violenza divina può manifestarsi nella vera guerra, nel giudizio divino della folla sul delinquente. Riprovevole è ogni violenza mitica che pone il diritto e che si può definire dominante. Riprovevole è anche la violenza che conserva il diritto, la violenza amministrata che la serve. La violenza divina che è insegna e sigillo, e non è mai strumento di sacra esecuzione, è la violenza che governa. Di Valtende, quella che governa. Valtende, poi viene da valere, aver forza. Ecco, come vedete scrive come uno che non si cura molto di farsi capire. Un concetto come la vera guerra, l'ha preso dai romantici. Sono i romantici che attaccano l'aggettivo vero a tutto quello che a loro piace. Per cui c'è il vero stato, il vero amore, la vera economia. Per cui si vede che ha letto i romantici. Però ha detto delle cose spaventose. Ha detto, c'è una catena infinita di violenza mitica che consiste nel porre confini e nello sfondarli. E questa è la storia dell'umanità. E c'è l'esigenza di un'altra violenza che faccia saltare quella serie di violenze mitiche che è la storia. La violenza mitica è porre il diritto, porre la sicurezza come nuda vita, ridurre l'uomo alla pura esistenza. E naturalmente quando l'hai ridotto alla pura esistenza, lo puoi benissimo sopprimere. Perché sei padrone della vita dell'uomo. Sei padrone. La violenza mitica consiste nell'impadronirsi della vita, nel ridurre l'uomo alla vita e nel dire la vita degli uomini è nelle mani del potere, che lui chiama diritto. Tutto ciò deve essere distrutto. Questa serie di cattive eccezioni, teologia politica, cattive eccezioni, di violenza che si pone e si autofonda. E' una violenza idolatrica, fatta di atti di violenza che pensano a se stessi come a Dio, ma in realtà non sono altro che narrazioni mitiche. Qui c'è proprio la violenza di un profeta in questa parola, in questa pagina di Benevi. Questi sono gli idoli. E adesso arriva Dio. Che non è per niente il Dio della bontà, proprio il Dio della vendetta. E la sua violenza non è mitica. No, non è un idolo. È violenza pura. Quella governa. Quello è il regno di Dio. Un regno senza diritto. Sembra che abbia letto Karl Schmitt. Dico sembra. Non può averlo letto questa tesi. Non può. C'è proprio questa sintonia discorde. Andiamo alle tesi sulla storia. Vedete che qui teologia è tanto la cattiva eccezione quanto la buona eccezione. Certamente è sempre, siamo sempre in una teologia dell'eccezione. testo tardo, le tesi di filosofia della storia. Ed è tutta costruita sopra la teologia dell'attimo. Qual è il nemico? Lo sviluppo storico. Che è lo sviluppo del sempre uguale. Cioè della violenza mitica e della posizione di ordinamenti. In questo testo tardo, tesi sulla filosofia della storia, c'è da parte di Benjamin l'uso di un lessico marxista. Quindi, egli si definisce materialista storico e la sua tesi è che il materialista storico ha come obiettivo fondamentale quello di interrompere la storia. Di guardare la storia come un cumulo di tragedie e di rovine e di interromperla. come un susseguirsi di catastrofi e di violenze, a questo punto non siamo più nel generico, sono le violenze patite dagli oppressi, e interromperle con la ultraviolenza della rivoluzione. Ultraviolenza che è niente meno che l'interrompere la storia. E l'interruzione della storia significa valutare la storia non come un continuum, ma come un susseguirsi di attimi. Cioè in ciascuno dei quali può introdursi il Messia, sulla base della escatologia ebraica. Un Messia che è portatore della spada, non è solo un redentore, ma il vincitore dell'anticristo. Il materialista storico vede il passato come un cumulo di rovine, certo, e tuttavia è capace di accendere nel passato la favilla della speranza. Perché il materialista storico è compenetrato dall'idea che anche i morti non saranno al sicuro dal nemico se egli vince, e questo nemico non ha smesso di vincere. Cioè il gioco, la posta in gioco è la reinterpretazione, la interpretazione del passato. Non la puoi lasciare alla autogiustificazione, alla mediazione. Non puoi lasciare che il logos emerga dall'immanenza. E no. Dall'immanenza emerge solo il racconto dei vincitori. Devi essere capace di guardare il passato con l'occhio di chi vi vede rifugere momenti attimi, faville di speranza, nella speranza che, prima o poi, il Messia passi attraverso un attimo e interrompe il corso del mondo. Dunque, due stati d'emergenza, il cattivo stato d'emergenza, le macerie, il buono stato d'emergenza, l'attimo. Ancora. Il materialista storico, cioè lui, non può rinunciare al concetto che il presente non è un passaggio, ma è imbilico nel tempo ed è immobile. Come si sforza di contraddire la mediazione. Dire è immobile, dire non è un passaggio, vuol dire non c'è sviluppo, non c'è progresso, non c'è svolgimento. Lo storicismo postula un'immagine eterna del passato. Il materialista storico postula un'esperienza unica con esso. Egli lascia che altri sprechino le proprie forze con la meretrice, il cui nome è C'era una volta, nel bordello dello storicismo. Egli, il materialista storico, rimane signore delle sue forze. E' uomo abbastanza per far saltare il continuum della storia. Il racconto, c'era una volta, che ricostruisce la storia come unità di svolgimento, è una meretrice con la quale l'uomo consuma le proprie forze. E invece le deve conservare per quello che basta per vedere la storia come attimi e il presente come l'attimo della possibilità del rovesciamento della storia. Il materialista storico affronta un oggetto storico unicamente e solo dove esso gli si presenta come monade. In questa struttura egli riconosce il segno di un arresto messianico dell'accadere, o, detto altrimenti, il segno di una chance rivoluzionaria nella lotta per il passato oppresso. Egli la coglie per far saltare un'epoca determinata dal corso omogeneo della storia, come per far saltare una determinata vita dall'epoca, una determinata opera dall'opera complessiva. Il risultato del suo procedere è che nell'opera è conservata e soppressa l'opera complessiva, nell'opera complessiva è conservata e soppressa l'epoca e nell'epoca l'intero decorso della storia. E sta dicendo che sta parlando male della prospettiva. Non si può guardare indietro, non si può, che qui è contro le rinnerung, ma è anche contro il comunismo come processo. Non si può vedere la storia come uno sviluppo, come una prospettiva appunto. Bisogna riuscire a vederla fatta di attimi, in ciascuno dei quali si è consumata una tragedia, ciascuno dei quali riassume in sé un'epoca. Qui sta forzando oltremisura il concetto dialettico di infinito che sta dentro il finito, che è il concetto della coscienza luterana in Hegel, che è il concetto della dialettica della logica di Hegel, che è il concetto in Marx della merce che contiene l'intero capitalismo, perché ne contiene il processo. E qui sta dicendo che tutto ciò va bene, cioè che l'infinito stia dentro il finito va bene, purché questo star dentro non sia interpretato in prospettiva come uno sviluppo, per cui da uno ieri meno potente e meno sviluppato si giunge evolutivamente a un oggi più potente e più sviluppato. No, non è così. La storia è storia in cui ogni attimo contiene l'infinità della storia come catastrofe, e al tempo stesso ogni attimo può essere, sarebbe potuto essere, l'attimo, il pertugio attraverso il quale entra.